Quando i chimici escono dal mistero dei laboratori e vogliono volgarizzare la scienza, scelgono gli esperimenti più facenti, come questi che vediamo compiere in recipienti che contengono aria liquefatta a 190 gradi sotto zero. Come vedete, la bistecca esce fumante dalla bollitura a freddo e anche dura e friabile come il vetro. La stessa sorte viene fatta ora subire ad una palla di gomma. Ed ora, ammirate a che punto giunge l'altruismo divultativo di questo bonario, che non esita a sacrificare il suo cappello per amore della scienza. Grazie a tutti.